Eccolo qua, eccolo, signori e signori, stanno brindando, eccoli, eccoli, eeeh, sì, sì, vai col brindisi, sì, eeeh, eccoli, fantastici, è partito il brindisi, sì, grandissimi, perché voi, voi cosa festeggiate ragazzi? Io non festeggiare. Questa festeggia, cosa festeggiate? Eh, la festa della classe dell'ottanta. L'ottanta, l'ottanta ragazzi, ecco, ecco, come diceva, allora, l'ottanta, l'ottanta di dove? L'ottanta di Carpenedo. L'ottanta di Carpenedo, ecco signori, c'è stata una cosa strana, allora, le ragazze si vede che sono dell'ottanta, quello è, ma i ragazzi hanno avuto una vita difficilissima, mi sembra, ecco, attenzione, chiediamo a lui che lo vedo disperato, eccolo, ecco, queste ragazze di molto no. E poi no, perché frequentando noi si sono mantenute giovani perché logicamente abbiamo dato la nostra, cazzo, caspita. Sì, la vostra. E' presente? Tu hai dato. E' presente? Io ho dato. E si vede che ha dato questo, eh? Ho dato. Ho dato. Vedete il Pincocoon, no? Sì, ecco. E hanno assorbito le nostre energie, sono invecchiati. E quindi siete invecchiati, ecco. Sì, come è ritratto di Dorian Game. E' una cosa del genere. Quindi queste ragazze hanno succhiato l'energia a voi. E quindi succhiato non è un bel termine. No, no, intendevo nel senso assorbito. No, no, non si dice. Aspetta, attenzione, colpo di scena. Dave, riprendimi le ragazze. Riprendimi le ragazze. Attenzione, ragazze, confermate. Attenzione, le stiamo perdendo, le stiamo perdendo. Queste ragazze, le stiamo perdendo. Hanno bisogno di aria, ecco. E confermate questa cosa che avete, insomma. Che fai? Le fucche tutte le sere. Questa ragazza, ecco. Attenzione, ecco, vedete come si fa a mantenersi. Come si fa a mantenersi. Giovani, ecco. Ecco, l'elisir di lunga vita. Insomma, questa cosa, ecco. Fantastica, confermate. Conferno. Perfetto, perfetto. Ok, ok. Ci siamo. Allora, hai confermato che tu? No, certo. Perfetto. Allora, ricordiamo che il video verrà trasmesso sul sito del convento, ecco. Quindi, diciamo, va benissimo, no? Giusto? Sì, ecco, perfetto. Perfetto, grandissimi. Ecco, l'ultimo quesito era, io pensavo che invece voi foste un po' più estremati, perché è da una vita che ci provate con loro. Ma non è mai successo niente. Ah, non si sa. Non si sa. Non si sa. Lasciamo, lasciamo. Ah, voi. Ah, siete voi che... Ah, ecco, vedi che ci sono tante corrente di pensiero. Loro mi dicevano che eravate voi che, insomma, vi siete spremuti, ma niente. Invece voi dite che sono loro che si sono, insomma, riservate giovani, ecco, perché continuano a provarci con voi. Dove sarà la verità? Io con lui soprattutto. Con Barbetta? No, no, quello dopo. Quello dopo, con Luigi. Ah, è una vita che ci provi con Luigi. Una vita. Tu come ti chiami? Roberta. Roberta. Stasera potrebbe essere la tua serata. Ecco, stregami Luigi, così attiramelo. Attira, sì. Seducimelo, seducimelo. Che fai? Non lo seduci? Non ce la fai. Non ce la fai. Colpo di scena stasera Roberta. Vuole sed... No. Con Luigi. Con Luigi sta bene, eh? Eh, ma stiamo facendo l'intervista. Quindi stasera... Va bene, ok, ragazzi, salutiamo tutti da casa. Ciao dalla classe 1780 di... Carpe Nedolo. Carpe Nedolo, eh!